Aveva 39 anni ed era di Santa Gata di Puglia in provincia di Foggia. L'operaio è morto questa mattina dopo essere stato schiacciato dalla pedana di un mezzo pesante all'interno di quella che un tempo era un'azienda agricola e che ora viene utilizzata come deposito di un'autofficina. L'incidente è avvenuto alle 9. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo stava effettuando delle manovre di carico e scarico di materiale quando è finito sotto la pedana del mezzo pesante rimanendo schiacciato. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del personale del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i medici legali. A Carapelle sono arrivati anche i tecnici dello Spesal per verificare la posizione lavorativa della vittima. Siamo in presenza di un'ennesima tragedia, dice l'UGL, che esprime il suo cordoglio alla famiglia della vittima. Nel 2018 sono state 1133 le cosiddette morti bianche, più 104 rispetto all'anno scorso. Per questo è necessario promuovere una maggiore cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ed una formazione degli operai più adeguata, soprattutto dove il rischio di infortuni è elevato. Grazie a tutti.